Salve ragazzi e ben ritrovati in questa 29esima puntata prima parte sezione 1,5 dietro le quinte Allora come potete non vedere praticamente stiamo livellando tutta questa zona qui per ugualiarla al campo 20 Cosa è successo? Qui c'erano tutti gli alberi e qualcuno che lavora alla Giants ha deciso giustamente di fare il bastardo all'ennesima potenza E di piazzare come potete vedere da questa figura due alberi praticamente sottoterra perché altro non era Sottoterra come vedete uno qua e un altro qua Ciò facendo impedisce la modellazione del terreno e quindi io mi ritrovo adesso a parte i crateri che abbiamo fatto per poter cercare di rimuoverli Praticamente un camion 10 bilici di sabbia nel suo popò sarebbero niente avete capito Perché bisogna essere stupidi ma non puoi farmi una roba del genere Io non ho parole mi sto tenendo in un modo che non potete immaginare perché sto facendo un video da mettere su youtube Ma se fosse fare un video e tenere per me a quest'ora avrebbe già la sabbia che gli sfiora sulle orecchie Comunque Eh io l'ho già fatto comunque Detto questo Guardo ti vedo agitato Detto questo Detto questo Leggermente agitato Comunque in poche parole sarebbe che loro hanno messo gli alberi a livello terreno Sarebbe l'asfalto qua Non hanno contato che c'era il terreno che poi si alzava Quindi loro geni non sono stati gli alberi là Invece di fare alberi piccoli sono stati gli alberi normali Cioè Sono praticamente sotterati nel terreno Vedete cosa succede? E qui praticamente non riusciamo a rimuovere Ad abbassare il terreno e portarlo a livello strada perché ci sono gli alberi E allora occorreggono questo bug che il terreno si possa modellare con o senza alberi Cioè anche se c'è l'albero io posso modellare il terreno e dopo l'albero magari sparisce Che avete capito Oppure devono crearmi un attrezzo, un mezzo per poter eliminare l'albero Quando lo si tocca, quando ci si avvicina E c'è solo che Una cosa che potevamo fare noi era quella di prendere lo spaccazoccare originale Questo qui Togliere la collision alla modo Quindi scaricare una modo simile Togliergli la collision e quindi poter penetrare la terra e riuscire a rimuovere Diciamo la socca Oppure modificare sempre spaccazoccare e ingrandire diciamo il trigger di lavoro In modo tale da poter riuscire ad arrivare con il trigger all'interno della terra Restando all'esterno con gli spaccazoccare Fortunatamente Bullir ha trovato una modo che diciamo si attacca al Al telescopico Al telescopico Che adesso qui non abbiamo perché ovviamente il multiplayer non funziona Che ha un trigger decisamente un po' più grande E arrivando di fianco diciamo a queste collinette che adesso abbiamo preparato Dovrebbe in teoria sparire Rimuove tutto quanto Poi per rimuovere tutti gli alberelli decorativi che c'erano The Guns ha trovato un'altra specie di cipatrice portatile Che riesce a diciamo rimuoverli Eccola qua Casomai se richiedete potrei fare un test mode fatto bene e tutto quanto Non sembra neanche malvagia A occhio e croce Comunque ha fatto il suo sporco lavoro Abbiamo immucchiato 30 o 27 mila litri di cipato Prova a salire il super magnum Sì va bene Cosa c'entra? Ah sì va bene E era a occhio 24 mila litri va bene No 24 mila Sì 24 mila litri E Non è male Cos'hai? Non è male 24 mila litri Con tutti gli alberelli lasciati in giro Perché altrimenti quegli alberelli se voi li spostate Automaticamente dopo quando chiudete e riaprite il salvataggio Ritornano alla loro posizione di partenza Mentre cipandoli Si vedete che vengono cancellate proprio le stringhe Dall'XML E quindi non ricompaiono più O almeno spero E se no ogni volta abbiamo cipato gratis Comunque Detto questo Adesso vediamo in single player Di muovere questi due Diciamo questi due pezzi di albero Che restavano E dopo vediamo di risolvere il problema Comunque Detto questo Questi due alberi qua Erano quelli ragazzi Che poi avevano La soccata che sporgeva di mezzo metro Che quindi non si poteva tagliare Era sotto terra Alla fine Gli alberi erano questi qua Che romperono le scatole Adesso vediamo di Sistemare il tutto Come vedete abbiamo obbligatoriamente dovuto modificare i soldi Di aggiungere un milione e cinquecento mila euro Perché con tutte le modifiche del terreno Che abbiamo dovuto apportare Ogni modifica del terreno mangia soldi Quindi adesso sono tre ore Che alza sbassa Tira il terreno di qua e di là La casetta resterà sempre così Questa non si può togliere Però vabbè Dopo sistemeremo un po' qui l'altopiano Faremo una cosa smussata Fatta bene Amari un po' di roccia Una cosa bella da vedere Smusso a 45 gradi Smusso a 46 gradi A fare una cosa bella Fatta bene In modo da poter recuperare il campo Ora praticamente ci sono scavi in corso Volevo fare questo video Dietro le quinte Per farvi capire Quanto male stanno lavorando Secondo me Quelli della Giant Stanno proprio lavorando col Col culo stanno lavorando Perché altro non si può dire Non ci sono parole per tradurre Quello che stanno facendo Cavolo Non puoi farmi Una cosa del genere Vabbè Ok Dipristinata la pace interiore E Sono d'accordo Su queste cose qua Cioè veramente ragazzi Non ci siamo Aggiornamenti che non arrivano Che dovrebbero arrivare Multiplayer Problemi con il sound dei mezzi Ste robe qua Che non dovrebbero neanche Vedersi Su un gioco Comunque Fai l'albero che entra nel terreno Va benissimo Ma devi farmi qualcosa Per permettermi di rimuoverlo Devi fare in modo Che il terreno Si modelli Anche se c'è L'albero lì Anche se c'è Il capannone lì No Non si può modellare In questo punto Non si può modellare In quest'altro punto Non si può Assame modellare il terreno Come lo voglio Niente Chissà che capiscono qualcosa Garia Proprio caro Che uno dei loro Dei quattro cruchi Che si sentai Su a Toya Da Giants Che tu capisco E guardasse sto video E capisse un attimo Quello che si duri a fare Che si duri a tirarsi A sapo sui piedi Detto questo Mandarò una mail Con il link A video allegato Manda che ne 20 mail Chissà che si intase A casella Del posto Del mail Detto questo Passo In single player E vediamo Registrando Di cercare Di risolvere Il problema Fortunatamente Esiste qualche moda Altrimenti dovevamo Farci anche quella Oltretutto Perché eravamo partiti Per andare a modificare La moda Però per fortuna Obudire O De Guns Hanno trovato Queste due Mode qui Che riusciamo A rattoppare L'eventuale problema Se no dovevamo Perdere ulteriormente Il tempo E tardare Di conseguenza L'uscita Di video Della serie Per colpa Della Giants Quindi Una volta Colpa la connessione Una volta Colpa il Bull Dyr E stavolta Colpa la Giants E cosa c'entro io? Tite c'enti sempre Stavo Bene Allora Vediamo Di andare In single player E risolvere il problema Provando In single player Ecco qui Ecco qui con questo Strumento Che è sparita Soccata Di sotto Della mappa E ora Eccolo qua Questo praticamente È l'attrezzo E avendo una collision Un po' Modificata Dalla parte Del motore Trigger Un po' Modificato Dalla parte Il motore Idraulico Diciamo Prende di più E quindi Da di fianco Siamo riusciti A toglierle Entrambi Ecco qua Ora ci siamo Finalmente Liberati In single player Ora ricarichiamo Ricarichiamo Il salvataggio E vediamo Di Sistemare Sto benedetto Salvataggio Per poter fare La ventinovesima Puntata Qui La situazione È questa ragazzi Siamo riusciti A sistemare Tutto il Macello Che c'è stato E Fortunatamente Grazie a quelle Due moda Che siamo Riusciti A trovare Ora stiamo Ripristinando Un po' Sistemando Qualche avallamento Creando Diciamo Allungando I campi Comunque Vedremo Tutto bene Nella Prossima Puntata Cioè Nella ventinovesima Puntata Che questo era Dietro le quinte Per farvi vedere Quanto lavoro C'è dietro Anche per fare Un semplice Video Della serie E Oltre purtroppo Tutti i problemi Che si creano Di conseguenza Detto questo Ringrazio Tutti quelli Stasera Hanno dato Una mano Per risolvere I problemi Prego Ciao a tutti Ciao Prego Prego E niente E qui Adesso Noi dobbiamo Ripristinare Tutto quanto Risseminare I campi Che ci sono Da riseminare E ovviamente Ragazzi I soldi Verranno Rimesi Come Come Erano Nella 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 Precedente Puntata E sistemare Appunto Il tutto Poi abbiamo Ho dato Una toccatina Anche al campo Dieci E c'erano Tutte le Arature Fuori Fuori Sciapo E Se vuoi Guarda che Con un attimo Allarghiamo Il campo Dieci Fino A casa No 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 Siamo Buoni Adesso qua Stiamo Rifinendo Un attimino Qua Tutta La zona Della casetta E Comunque Io direi Anche di allargare Il campo Dieciotto Che No Basta Allargamento Campi Che Se no Mendo Allargamenti Amiche Non Tengo Niente Idea Detto Questo Vice Luto E Guarda Mi piacereia Questo video Qua Proprio Fosse Visto Dalla Giants Soprattutto Il problema Di prima Perché Venga Risolto Perché Se loro Mi danno La possibilità Di modificare I terreni Io Devo Devo E posso Dover Modificare I terreni Dove voglio No Che ci sia Un alberello Che vengo Deficiente Per sistemare Il problema Perché Loro Dovano Piantare L'albero A raso Terra E dopo Farci La montagna Dopo Avete Capito Vabbè E anche La casetta Fatamela Rimovibile In qualche modo Una casetta Fissa Che non puoi Togliere La terra Sotto Quindi Viene fuori Spigolato Tutti i problemi Che abbiamo Visto Prima Bene Dai Ragazzi Ci vediamo Prima possibile Con la 29 Puntata Ciao Tutti E alla Prossima Qui intanto Noi Proseguiamo I lavori Ciao Ciao